Un'iniziativa che sta diciamo avendo un notevole riscontro anche perché si parla di IMSS, si parla di polo di eccellenza previdenziale ed assistenziale e questa competenza della cultura magari è una cosa inedita per cui è veramente una cosa diciamo eccezionale. E dagli sguardi delle persone notiamo ecco un grande entusiasmo e tra l'altro con questa diciamo apertura abbiamo coinvolto anche il territorio poiché l'istituto ha quasi 9.000 opere sparse in tutta Italia di artisti del Novecento ed oltre oltre ad avere una collezione sciarra del Seicento, De Colonna Sciarra, per cui abbiamo veramente un patrimonio che è doveroso e direi magari piacevole farlo vedere. Trattasi comunque di collezioni di artisti del Novecento provenienti dal fondo dell'Exemples, il fondo Pies Masad, era un ente di assistenza e di previdenza dei pittori, drammaturghi, scultori, scrittori, i quali praticamente hanno lasciato anche delle opere d'arte in donazione e quindi questo è il grande orgoglio per noi, conservarli, custodirli, restaurarli e poi farli vedere al pubblico perché questo che noi abbiamo è di tutto.